La scuola esce dalle aule e abbandona zaini e libri per approdare in un centro commerciale. È l'originale iniziativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Roncalli-Sarrocchi di Pogibonsi, che per due giorni si è raccontato e mostrato all'esterno, portando i ragazzi dai banchi di scuola a quelli della spesa. Noi offriamo una formazione di tipo tecnico, quindi buone basi culturali che permettono di affrontare poi l'università e anche una base pratica che permette un profilo inserimento nel mondo del lavoro. Abbiamo una realtà di una scuola dove vengono fatte tante iniziative portate avanti e ci dispiace che la cosa rimanga rinchiusa dentro le nostre quattro mura. Quindi vogliamo uscire all'aperto perché tutti conoscano un po' le belle cose, le buone pratiche che vengono fatte presso il nostro istituto. A rendere speciale questa iniziativa, la fattiva collaborazione degli studenti che hanno dedicato il loro tempo a raccontare con entusiasmo le attività dell'Istituto. Consiglierei di venire a studiare nella mia scuola perché apre più le porte al futuro, soprattutto può aiutare a trovare subito lavoro per chi non avesse voglia di fare l'università o per chi semplicemente cerca subito qualcosa da fare. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di attraere nuovi studenti nel mese dedicato alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Divertente studiare nella tua scuola? Divertente studiare un po'... No, comunque dipende perché io facendo esempio personale il mio corso mi piace, cioè mi piace studiare le materie e il po' ma perché è una cosa più soggettiva diciamo. Se piace una certa cosa è divertente anche studiare poi alla fine.